Dopo l'appuntamento zero con l'anteprima dedicata al Ministro Speranza sul palcoscenico del Teatro Cinema Astra, la festa dell'unità di Pesor 2021 si prende Piazza del Popolo per cinque giorni. Mercoledì 25 agosto è previsto alle ore 18 il taglio del nastro per una festa che si aprirà con il focus sulla responsabilità di essere sindaco alla presenza del capogruppo PD in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi in dibattito col presidente della provincia Giuseppe Paolini, col sindaco di Lunano Mauro Dini e con l'ex sindaco di Lodi Simone Ugetti. Una serata completata alle 21.30 con le tematiche europee affrontate alla presenza dell'eurodeputata Simona Bonafè e l'ex governatore delle Marche Luca Ceriscioli. Sarà la prima di cinque serate di una piazza che torna dunque a riaprirsi al dibattito. Cercare di riportare le persone al confronto, quindi valorizzare la socialità, ritornare anche a iniziative seppur protette e con le regole necessarie in presenza e quindi ecco un ritorno alla normalità che sicuramente è importante ed è un ottimo segnale. Io appunto sostengo che questa sia una festa di valore per questo motivo e anche per le occasioni di confronto politico che ci potranno essere ed è anche un'occasione di valori, una festa di valori perché verranno affrontati dei temi che caratterizzano ovviamente il programma e l'essere partito democratico ma ecco una festa che si caratterizza anche nella fase post-covid. Tematiche post-covid come quella del lavoro che giovedì sera alle 21.30 sarà indagata alla presenza del segretario generale CGL Maurizio Landini intervistato dal direttore dell'ETG2 Gennaro San Giuliano. Venerdì l'attenzione sarà dedicata alla direzione delle Marche con il Partito Democratico all'opposizione. Sabato un intrigante dibattito bipartisan con le prospettive per l'Italia indagate nel faccia a faccia fra la deputata PD Alessia Morani e la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini. Domenica si parla di giovani e transizione ecologica alla presenza del presidente di Marche Multiservizi Daniele Tagliolini e della deputata Alessia Rotta. Chiusura dedicata ai primi cittadini di Pesaro, Firenze, Matteo Ricci e D'Aria Nardella con l'Italia veloce, il PD dei sindaci. Politica ma anche spettacoli e convivialità, il tutto nel rispetto di norme anti-covid e accesso tramite Green Pass. È opportuno prenotare prima gli eventi, a disposizione già un form online sia sul sito del PD Pesaro sia sui social a cui semplicemente inserendo i dati si può prenotare il proprio posto scegliendo quale evento e volendo si può prenotare anche attraverso sul numero di telefono per chi è meno pratico degli strumenti digitali. In alternativa si può prenotare anche il giorno stesso al banco dell'ingresso se ci sono posti liberi lasciando i dati per il tracciamento. All'ingresso ovviamente sarà richiesto il Green Pass, sia per quanto riguarda i dibattiti sia per l'area ristorante dove non serve prenotazione, se arriva il momento, ma comunque verrà verificato il Green Pass. Grazie.